Buongiorno ragazzi, sono sempre io Mattia99 e oggi faremo l'unbossing I Cavalieri dello Zodiaco per la Playstation 2 Questa è la copertina, questo è il fronte, questo è il retro Vediamo il contenuto, abbiamo un disco di gioco E abbiamo il manuale di istruzioni a colori e molto profumato Ok ragazzi, l'unbossing è finita, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!